Da oggi in poi l'Ordine dei giornalisti si dota dei principi della Carta di Pesca a Seroli, quindi i giornalisti avranno nel loro ordine deontologico delle linee guida per approcciarsi alle tematiche ambientali. Da domani, grazie alla Carta di Pesca a Seroli, nata in questo percorso del Centenario del Parco, con l'ascolto e il rapporto con l'Ordine Nazionale dei giornalisti, ci sarà un punto fermo. Nasce tutto da una legge regionale che istituiva il Centenario del Parco, Centenario, codiuvato da un comitato scientifico a cui hanno fatto parte Cannata, che è il Presidente del Parco Nazionale, Cesare Padrone, già Presidente del Corpo Forestale e appunto il Presidente dell'Ordine dei giornalisti regionale Stefano Pallotta, insieme a Franco Salvatore, già Presidente dell'Istituto Geografico. Insieme a noi, in un dialogo costante, abbiamo immaginato una serie di eventi che mettessero a centro il dibattito ambientale, la sostenibilità e quindi da un lato si è fatto la Carta dei Pesca a Seroli, ma questa legge ieri, in Consiglio regionale, il 12 dicembre, si è appunto evoluta nel Festival della Sostibilità, quindi dal prossimo anno diventa evento strutturale perché l'Abruzzo ha nel suo DNA il dialogo nelle tematiche ambientali. Tre parchi nazionali, un parco regionale, noi ci candidiamo a sfidare tutte le regioni italiane per la leadership sulle tematiche ambientali.